Trenitalia, giù le sbarre, se circondata, con questa minaccia semiserie in apertura di una nota diffusa in queste ore alla stampa, domenica prossima Fratelli d'Italia e Movimento Ottana dei Lupi hanno organizzato un esitinne nei pressi del passaggio a livello vicino alla Fontana della Pace. Secondo i promotori dell'iniziativa, da diversi anni a Vittoria, si registra un anomalo quanto pericoloso fenomeno, ovvero i passaggi a livello situati nei pressi degli ingressi cittadini non funzionano come dovrebbero, in altre parole semplicemente non si chiudono al passaggio dei treni. Questa assurda e inspiegabile problematica, rimarca in particolare il consigliere comunale Giovanni Moscato, è stata denunciata a più riprese da cittadini scampati alla tragedia per un soffio. Ad oggi, tuttavia, le risposte tardono ad arrivare mentre i treni continuano a sfrecciare indisturbati e allora si chiedono gli organizzatori e il sit-in, deve per forza scapparci il morto prima che qualcuno intervenga seriamente. Alla luce di ciò, non è più possibile attendere passivamente il corso di aventi senza intervenire fermamente in una questione di tale portata. Il sit-in si terrà domenica dunque a 30 marzo a partire dall'area 11 in via Cavalieri di Vittorio Veneto.